salve a tutti i capitani qui è squall che vi parla e questo è il mio primo video effettivamente non mi avete mai sentito però sono rimasto nell'ombra ma ho deciso di spuntare fuori per questo sugo fest e già spero che a voi sia andata bene io proverò adesso ho conservato qualche gemma nonostante io abbia già barba bianca e speravo sinceramente nella seconda parte del supernova ma così non è stato comunque qualche personaggio mi manca ancora e quindi speriamo di essere fortunati sempre se il gioco si avvia ovviamente ed eccoci qui ovviamente non fate caso al mio squadra di merda ma sono un povero piratucolo di livello 76 quindi direi di partire subito con i pool incrociamo le dita a ci terrei ovviamente a dire che questi sono i miei primi pool di oggi sto facendo in diretta tra virgolette quindi non me ne vogliate ed ecco partiamo con il primo ottimo già un argentone vediamo chi è a curo benissimo non mi interessa minimamente ce l'ho già evoluto perfetto inizia bene la mia avventura qui sono le sue bellissime statistiche e facciamo subito il recruit a me hanno detto anche se sembra una cazzata di non tornare indietro e quindi di eseguire le recruit tutte in una volta ma non so mi sa tanto di scaramanzia ma noi ci proviamo lo stesso vai col secondo pool ed è un oro ok stavolta si gioca pesante a vista ottimo e questo è uno di quelli che mi mancava in vista di garp mi servirà sicuramente queste queste sì che sono statistiche e passiamo al terzo punto ho vista un po' solamente anche se qualcuno c'è ancora vediamo la terza un altro oro speriamo bene e shopper beh sì questo fa un po' cagher non ci interessava molto ma comunque è un int che può andare nella mia squadra per nonno garp passiamo all'ultimo un po' di suspense un po' di suspense un altro oro iniziamo bene o trafagarlo una supernova che non ho tra l'altro e direi che stavolta sono andato bene in culo agli altri di optc che mi usano sempre come sguattero trafagarlo questo sugo fest mi è piaciute quattro pool direi che non possa lamentarmi io passo la palla ai miei colleghi ci sentiamo sul gruppo sul canale mi raccomando iscrivetevi e soprattutto shanks è forte un po' di Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.